buongiorno orchidea rene merosò orchidea medicina per l'anima vi ricordo sempre il nuovissimo libro orchidee storie e personaggi quarta edizione 568 pagine orchidee mi raccomando compratelo a tre grandi pregi costa poco e semplicissimo l'ho scritto io e se vi interessano orchidee compratelo leggetelo allora perché adesso abbiamo fatto un casino di video sulle orchidee che abbiamo fatti più di 600 video guardato stamattina via 650 video una roba del genere e non so più cosa fare perché ormai abbiamo trattato un po tutti gli argomenti assieme no prima di tutto ho qui delle capsule dicono a questa la scomburghia tevicini che stranamente alcune basket capsule sono già scoppiate che sarà tre mesi che più vita e se perché ad aprile che invece aprile maggio giugno luglio sei tre mesi e sono scoppiate ce n'è ancora qualcuno di qui e di là che devono aprirsi però quindi ho tante di scomburghia splendida questa è la scomburghia splendida vedete c'è nessun casino dato che io non semino più se c'è qualcuno che gli interessano sennò devo buttare via se qualcuno interessa glielo regalo volentieri allora come dicevo volevo parlarvi di darwin che è stata è stato uno quando si interessa delle orchidee darwin è una cosa fondamentale per le orchidee perché è stato un grande studioso delle orchidee lui quando era ormai vecchio ha scritto una lettera da giovane era uno molto molto sociale cordiale con tutti così invecchiando era diventato una sociale non dava d'accordo con nessuno proprio quando era in compagnia così esserò troppo che dovevo vomitare non sopportava più nessuno sono pochissimi amici ne ha scritto una lettera ser joseph hucker uno dei pochissimi amici di darwin dicendogli nella mia vita non ho mai trovato nessun soggetto così interessante come le orchidee e le orchidee sono stati in effetti i soggetti più studiati da darwin e il libro fondamentale di darwin non è tanto la teoria della rivoluzione cioè l'origine delle specie per opera della selezione naturale ma è stato la fecondazione sulla fecondazione dell'orchidea ad opera degli insetti il cui dimostra scientificamente la teoria della rivoluzione allora darwin è nato in una famiglia lui è sempre stato un grande appassionato di natura di pianti animali insetti è nato nella famiglia benestante suo padre un grande medico medico dei vip suo nonno erasmus darwin che è morto qualche anno prima che darwin nascesse era un grandissimo naturalista e da grande ha avuto una grande influenza sul giovane darwin perché avendo questo suo nonno che aveva fatto degli iscritti molto importanti sulla sulla natura ha influenzato molto darwin che si è dedicato proprio a lui aveva una gran passione per tutto infatti il ragazzino lo chiamavano i cacciatori di topi perché cercava di studiare le piante gli animali già da ragazzino dopo le scuole lui è nato in un paesino si chiama giro e burda se non so come si dice se pronuncia in inglese comunque è scritto giro e burri e dopo le scuole normali doveva fare l'università e dato che suo padre era un medico voleva fare medicina ed ha fatto un anno di medicina ed in bulgo poi ha piantato lì perché assolutamente non voleva andare avanti sempre perché assistito un'operazione di un ragazzino che loro non c'era anestesia e seguito questa roba qui ha abbandonato gli studi di medicina e poi aveva pensato di fare il lavoro più tranquillo possibile con meno problemi possibili aveva pensato di fare il prete difatti aveva stava studiando teologia a cambridge per fare il prete ed era il terzo anno di teologia quando il suo professore di botanica e reverendo eslo l'ho convinto a partire per quel viaggio che poi l'avrebbe portato lo trilio della rivoluzione allora quel viaggio lì era era sulla nave bigl che doveva fare i rilevamenti della costa del sud america il comandante della nave si chiamava pizzeroy e robert pizzeroy e pizzeroy che voleva tutti i costi un naturalista a bordo allora ha chiesto tutte le università se gli mandavano il giorno naturalista e tra tutti ha scelto darwin allora darwin aveva 22 anni quando è partito nel 1831 il 27 gennaio 1831 siamo partiti per questo viaggio qua il comandante della nave aveva quattro anni più aveva 27 anni 26 anni e solo erano due persone completamente diverse perché darwin era uno molto la mano molto da allegro cordiale alla mano con tutti mentre pizzeroy era di origine nobili era rigidissimo severissimo super conservatore e pizzeroy aveva accettato di dividere sul loggio con darwin sulla nave e sulla preparazione ecco leggete darwin leggetelo il primo libro da leggere per leggere darwin il viaggio è un libro bellissimo che mi appassionerà il libro c'è praticamente un suo diario in questo viaggio che durato doveva durare preventivamente era previsto il viaggio in due anni in realtà è durato 58 mesi quasi cinque anni ed è un libro bellissimo ed è alla base appunto di quello che ha portato per la tria di rivoluzione e appunto darwin dormivano all'ologio del capitano e sulla preparazione appunto del viaggio del libro il viaggio in italiano ho trovato una frase che è fantastica che dice che su quella nave in pochi metri quadri viaggiavano fianco a fianco due filosofia di vita diametralmente opposte impersonati da due ragazzi più poco più che ventenni che all'inizio erano diventati amici stimandosi reciprocamente poi con l'andare del tempo i rapporti si sono un po inclinati fortunatamente darwin ha passato la maggior parte del tempo a terra non sulla nave perché in ogni posto che si fermavano darwin andava a fare delle ispezioni a fare per i suoi studi naturalistici per esempio lui ha attraversato le ande è andato a ritrovare la nave dall'altra parte delle ande allora parlare di darwin è una cosa molto lunga penso che dovremmo fare due o tre puntate su darwin comunque darwin è veramente una cosa affascinante cominciate a leggere il libro la nave il viaggio di darwin e vedrete che c'è un libro interessantissimo e vi spiegherà tante cose anche naturalistiche che vabbè dai a domani